Ma che spettacolo, guarda qua. Ma io sono l'unico feste che vanno a dire, sono a 35. Come sta scritto là mi stanno sverniciando. Ma fa che truccate stanno. Wow. Ladies and gentlemen, we are coming in Philadelphia City. Abbiamo appena pagato non so quanti dollari per passare su questo magnifico ponte che sta inquadrando il mio cameraman. Il ponte è tutto in acciaio verniciato colore avion o carta da zucchero in Italia. Ah, questo è solo più basso. Ho già fatto una strussata, ma ci mettiamo qua. Ma io vado a 35 miglia, come dice il speed limit, ma qua tutto corre. Sì, lì è Philadelphia, bella, sì, tappos. Qualche grattacielo. Rispetto a New York c'è qualche idea, lì c'è qualcosa di interessante. C'è qualche figurante. C'è qualche idea che ha reado la rispizione che guarig内ò le arrabbi. Cielo della libercazione che metà la hasta 1500 euro sulla storia. Cielo di far incorpore.